Tredicesima e bonus Natale. Sarà una busta paga più ricca per milioni di italiani, tra chi riceve la mensilità aggiuntiva e chi ha diritto ai 100 euro extra introdotti nel decreto legge Omnibus. I primi a ricevere la tredicesima saranno però i pensionati, a partire dal 2 dicembre, il primo giorno bancabile, poiché l'uno è domenica. Poi toccherà ai dipendenti. Chi lavora nel privato riceverà la tredicesima in base ai singoli contratti collettivi nazionali. L'importo corrisponde a un dodicesimo dell'intera retribuzione annua. Per calcolarlo è sufficiente moltiplicare la retribuzione mensile per i mesi lavorati e dividere per dodì. Il bonus Natale. Alcuni dipendenti, cioè coloro che hanno un reddito complessivo inferiore ai 28.000 euro e che nello stesso periodo d'imposta hanno il coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico, potranno richiedere il bonus Natale da 100 euro. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale basta invece avere solo un figlio a carico. È necessario, inoltre, avere capienza fiscale, l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve essere cioè di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. Il contributo arriverà con la tredicesima e interesserà 1,1 milioni di lavoratori. Per ottenere il bonus i dipendenti dovranno compilare un'autocertificazione scritta, da presentare al proprio datore di lavoro, in cui specificare i requisiti di reddito richiesti per ottenere il contributo e il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale. Chi non ha un datore di lavoro a fungere da sostituto d'imposta potrà chiedere l'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 che si presenterà l'anno prossimo. L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo e viene erogata proporzionalmente al periodo di lavoro. L'importo del bonus natale dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto, se ad esempio si tratta di un tempo determinato o indeterminato, o all'articolazione dell'orario di lavoro, nel caso per esempio di un part-time. Il sostituto d'imposta, il datore di lavoro, è responsabile del riconoscimento dell'indennità, che viene accreditata insieme alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore. Se durante il conguaglio l'indennità risulta non spettante, il datore di lavoro è tenuto a recuperarla successivamente. L'indennità può essere rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore, anche se non erogata dal datore di lavoro. Saranno diversi anche gli importi delle pensioni di dicembre 2024, ma non per tutti. Ecco i motivi! Meno trattenute, nel cedolino del mese di dicembre non ci saranno le addizionali regionali e comunali. Entro novembre, poi, si concludono i conguagli da modello 7302024. Di conseguenza, chi è a debito avrà già pagato tutto e nell'ultimo mese dell'anno non dovrebbe più trovarsi trattenute IRPEF. Tredicesima. Nella pensione di dicembre 2024 ci saranno aumenti anche grazie all'accredito della tredicesima. Bonus tredicesima. Si tratta di un importo aggiuntivo di massimo 154,94 euro che spetta solo a pensionati con trattamento minimo 7.781,93 annui. 591,61 euro al mese. Quattordicesima. La maggior parte degli aventi diritto la riceve a luglio, ma alcune categorie di pensionati a dicembre. Si tratta di coloro che soddisfano i requisiti reddituali e contributivi richiesti per l'accesso alla pensione dopo il 30 giugno dell'anno di riferimento e quindi non ricevono l'importo aggiuntivo a luglio. Per verificare gli aumenti ricevuti con la pensione di dicembre 2024, bisognerà attendere la pubblicazione del cedolino da parte dell'Inps. Per dicembre, arriverà nella seconda metà del mese di novembre, dal 20 in poi. Chi riceve la pensione può accedere all'area riservata in MyInps e consultare il sito dell'istituto. E voi cosa ne pensate? Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.